Dal commento sul Salmo 118 di Sant'Ambrogio Vescovo. Perseguita il nome di Cristo non ha la consolazione della speranza. Quando invece soffre per il suo nome, attinge la speranza dalla consolazione. Senti come ci consola dopo essere diventato credente. Egli dice, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ed egli aggiunge per quale ragione si possa sopportare tutto questo con pazienza. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Se dunque qualcuno vuol superare le avversità, la persecuzione, il pericolo, la morte, una grave malattia, l'assalto dei ladri, la confisca dei beni, o qualunque altra cosa in questo mondo, si consideri sventura. Facilmente supererà tutto se ha la speranza che lo consoli. Anche se capitano queste cose, non possono tuttavia essere gravi per chi dice Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura. Già che spera, ne cose migliori, non è mai abbattuto dalle più lievi. Nel tempo della nostra umiliazione ci consola dunque la speranza che non confonde. Ritengo poi che il tempo della prova sia quello dell'umiliazione della nostra anima. Infatti essa viene umiliata quando è lasciata in balia del tentatore, quando deve essere messa alla prova con dure fatiche, sperimentando così nella lotta e nel combattimento lo scontro di forze contrarie. Ma in queste prove viene vivificata dalla parola di Dio. Questa parola è la vitale sostanza dell'anima nostra. La nutre, la fa crescere, la dirige. Non c'è un'altra cosa che possa far vivere l'anima ragionevole come la parola di Dio. Difatti nel modo stesso che cresce il dialogo con Dio nell'anima nostra per l'accoglienza, l'intelligenza e la comprensione della parola, così cresce anche la sua vita. E viceversa, quando viene a mancare la parola di Dio nell'anima, anche la sua vita avviene meno. Pertanto, come l'unione dell'anima e del corpo è animata, nutrita e sostenuta dal soffio vitale, così l'anima nostra è vivificata dalla parola di Dio e dalla grazia spirituale. Perciò dobbiamo sforzarci in ogni modo di mettere da parte tutto, di accogliere in noi le parole di Dio e di trasfonderle nel nostro intimo, nei sentimenti, nelle sollecitudini, nei pensieri e nelle azioni, per corrispondere con i fatti alle parole della scrittura e non essere in contraddizione con i precetti celesti, così che possiamo dire anche noi la Tua parola mi fa vivere.